Quanto è grave la situazione dell'ospedale Perrino di Brindisi? Per quanto tempo ancora la cronica carenza di personale medico metterà a rischio la vita di decine di migliaia di persone costette a fare riferimento proprio al Perrino per le proprie esigenze di cura. Sono interrogativi a cui prima o poi qualcuno dovrà fornire delle risposte perché la sanità pubblica di questa provincia non può continuare a presentare tante problematicità. La situazione più preoccupante senza dubbio quella riguardante la medicina d'urgenza con code incredibili nelle sale d'aspetto del pronto soccorso e con situazione al limite del consentito visto che non è ammissibile far attendere tempi lunghissimi anche a chi giunge in codice rosso. E poi il dramma della chiusura di reparti durante la stagione estiva così come è accaduto per la chirurgia plastica e per la senologia. È evidente che così non si può andare avanti ed è per questo che nel pomeriggio il sottosegretario della sanità gemmato si recherà in visita proprio al Perrino per incontrare i medici di alcuni reparti e per approfondire il problema delle liste di attesa. Sarà un'occasione importante per chiedere che anche il governo pur non avendo competenze dirette sulla sanità accenda un faro su ciò che avviene nel Perrino e più in generale nella sanità pubblica della provincia di Brindisi.